In tema sicurezza, cosa ne pensi del fatto del cap nell'uso delle prove? Ah beh, ci si mette, un po' rompe le scatole, ma insomma ci si mette. Come mai rompe? No, vabbè, io so, non mi garba neanche la tartaruga, però ognuno, sai, è abituato o mi è abituato. Se c'è da mettere ce lo si mette, insomma. Si parla anche per quanto riguarda i cavalli che si possono buttare, si vedono il vuoto, la pensi così? No, io penso che alla fine i cavalli si sono sempre buttati e io penso anche che quelli che si buttano ti fanno vincere pagli. Senti come ce la penso io, però ognuno ha il suo pensiero nella testa. Vediamo, io penso che sono sempre successi, quest'anno magari non ci si è avuto neanche il rapporto di Monticiano e alla fine era qualcosa di importante nella provincia. Anche lì sono capitati dei cavalli e alla fine c'è stato qualcuno che non ha neanche una corsa a Monticiano o magari ci ha fatto una corsa così l'altra, ne basta, sicché non si può neanche dire la colpa è divesta e divestata. È successo, basta, io penso che alla fine succeda un po' in tutti i pali qualcosa che magari non si vorrebbe, no? Ci si deve passare un po' sopra e andare avanti. Ma sai io ce ne sono diversi cavalli a montare volentieri, ora vediamo. Sarebbe, 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 per me sarebbe importante davvero montare un cavallo competitivo. Aspettiamo, vediamo. Ormai senti, è di un paio d'anni e alla fine mi sono andate un po' sicco alle situazioni, sicché non ho neanche potuto scegliere, diciamo, oltre a tante situazioni. E ci vuole anche un pizzico di fortuna magari con chi ha i rapporti e ci vada dei cavalli abbastanza discreti, sicché aspettiamo agosto, ora non c'è da di altro.